Oggi è giovedì, ci troviamo alla vittoria di via nazionale di Castelfrentano, comunemente chiamato il Campo Vecchio. Da questo lato si allenano i ragazzi della categoria giovanissimi di mister Giovanni e da quest'altro lato i ragazzi della categoria allievi di mister Gabriele di Felice. Qua c'è mister Giovanni, mister Gabriele, tutti i due gruppi dei ragazzi sia di giovanissimi e degli allievi, si sono cambiati al Campo Nuovo di via Olimpia, si sono messi tutti in tenuta di allenamento in pantaloncini e sono partiti tutti dal Campo Nuovo a piedi percorrendo la via Frentana, il corso, fino a raggiungere qua il Campo Vecchio, tutti in fila indiana come bravi soldatini e faranno viceversa, al termine dell'allenamento non si faranno la doccia qua, in quanto ci sono delle problematiche ancora da risolvere, ripartiranno da qua, ecco mister Giovanni, ripartiranno da qua, sempre in fila indiana come dei bravi soldatini e ritorneranno al Campo Nuovo di via Olimpia dove lì si faranno la doccia e si cambieranno, qua abbiamo proprio in primo piano abbiamo Luca Rulli il goleador della squadra con 19 reti al suo attivo, abbiamo l'inserimento di Manuel Belardo, non mi ricordo come si chiama, lo si vede perché c'è la divisa della scuola calcio, qua abbiamo Matteo Di Fresco, abbiamo il piccolino Di Fresco Franco, abbiamo Simone, Simone là in fondo, abbiamo Nicolò, Alex Maramieri in fondo con quel ciuffo di capelli proprio, lo abbiamo di donato Federico, Manuele a questo altro lato c'è il gruppo degli allievi, i ragazzi più grandicelli, classe 2002, abbiamo anche un 2003 sta qua, anzi un paio di 2003, qua Cristian, ecco che saltano, si accende, vai su, 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 vai su che è anche mister dei primi calci, nonché coordinatore tecnico della scuola calcio settore giovanile della nostra società Virtus Castelfentano. Ecco adesso si preparano i due mister, si sono dati uno sguardo, già hanno programmato una partitella, da questo lato ci sono i giovanissimi e qua ci sono gli allievi, una partitella in famiglia per saggiare un po' le forze, si stanno preparando per le gare di domenica e lunedì, abbiamo domenica alle ore 11 giocherà per la categoria allievi la Virtus Castelfentano contro giovanile Chieti, mentre il giorno dopo, il lunedì alle ore 15 giocheranno i giovanissimi con Chieti FC 1922, in sostanza si rincontrano due squadre della città di Chieti e tutte e due le squadre giocheranno in casa. Mister di Felice sta preparando la squadra per i prossimi impegni, non tanto l'impegno di domenica ma quello della settimana prossima a San Puceto, è determinante per il proseguo del campionato, sicuramente ci saranno delle defensioni in quanto alcuni ragazzi nostri saranno assenti perché vanno in Inghilterra presso l'Università di Oxford per uno stage che ritorneranno non in tempo utile per la gara. Chiudo la diretta che fra poco comincia all'inizio.